Basta frociame! Questi sembrano degli Elon Musk, come si dice le GBT, la GBT, le BT, ci ha rotto. Non c'è bisogno del GPL, con tanti cazzi sott'olio. Se tu vai con la tipa di Brasile, la Tibet, certamente, mi nasconde la donnola dormiente, ha la donnoletta e hanno bisogno della maternità. Dici perché? Perché senza figa l'Italia sarà poco bella. Grazie.